Avevano allestito all'interno di un appartamento una piccola serra di marijuana, con tanto di libretti di istruzione per far così crescere al meglio le piantine. Ma la coltivazione, ovviamente del tutto illecita, non è sfuggita agli occhi dei finanzieri e nei guai sono così finite due persone, un italiano ed un marocchino. Le fiamme gialle di San Giovanni Valdarno, infatti, durante un controllo del territorio, avevano notato alcuni movimenti sospetti di due soggetti, riconosciuti poi come frequentatori abituali di ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. I finanzieri, dopo un breve pedinamento, sono riusciti ad individuare l'abitazione di Montevarchi di uno dei due ed è proprio qui che le fiamme gialle hanno scoperto una vera e propria coltivazione di marijuana, con tutto l'occorrente per accudire al meglio le piantine. I due sono stati segnalati alle autorità competenti e la piantagione è stata invece sequestrata. Grazie a tutti.